Bentornati su MyFootballGersey. L'avrete sicuramente riconosciuta, questa è la prima maglia del River Plate per la stagione 22-23 in edizione FUN. Prevalentemente bianca, la maglia da calcio Adidas Club Athletico River Plate 2022-23 combina il tradizionale colore principale del club con una fascia rossa che va dall'alto a sinistra all'angolo in basso a destra. E' interessante notare che la fascia rossa presenta sottili strisce tonali, mentre i logo degli sponsor sono neri. Il logo dello sponsor principale ha un contorno bianco. Un colletto flappy completa il look tradizionale. Mantaloncini neri e calzettoni bianchi completano il look della nuova divisa Club Athletico River Plate 2022-23 di Adidas. La maglia è molto bella, una delle squadre con più tradizione del Sud America. Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle di un ottimo tessuto, veramente con dei colori questa fascia mi piace tanto. Poi mi direte voi nei commenti cosa ne pensate. Il costo lo vedete qui sopra che per una maglia di questa qualità e con le spese di spedizione incluse è molto basso, molto conveniente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon del valore di 5 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo io spero possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. No